Signore e signori, buongiorno e benvenuti qui all'interno della sede di Union Camere per questa importante iniziativa il ruolo dell'equity crowdfunding nel rilancio delle aziende in crisi. Io sono Gabriele Ferrieri, presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori e avrò il piacere e il compito di moderare questa importante iniziativa nella quale avremo l'opportunità di ascoltare alcune delle più autorevoli voci dell'ecosistema innovazione, economico e imprenditoriale del nostro Paese con l'obiettivo di analizzare e valorizzare quelli che sono gli strumenti e le opportunità legate alle aziende in crisi su quelli che rappresentano gli strumenti dell'equity crowdfunding. In questo momento ci tengo a ringraziare ovviamente di questo invito l'ingegnere, presidente e amministratore delegato di IG Group, il dottor Giuseppe Incarnato e ovviamente un ringraziamento particolare a tutte le realtà che hanno permesso questa iniziativa ai partner promotori, ovviamente a tutti coloro che ci seguono sia in presenza qui a Piazza Sallustio 21 che tutti coloro che ci stanno seguendo nella diretta streaming. Prima di dare la parola al nostro primo relatore volevo evidenziare da presidente dei giovani innovatori italiani l'importanza che abbiamo avuto il piacere di vedere sia da me come innovatore ma soprattutto da presidente come l'ecosistema dell'innovazione e del digitale in Italia sia cresciuto e valorizzato in questo momento particolare in cui l'economia è sempre più orientata allo sviluppo tecnologico e digitale e pertanto gli strumenti per valorizzare al meglio la raccolta fondi, gli investimenti sia del mondo delle imprese, delle start-up e delle PM innovative è sempre più intrinzio che guarda ovviamente ad una sinergia pubblico-privata che riteniamo fondamentale per il progresso economico e sociale dell'Italia e dell'Europa pertanto oggi questa iniziativa che ovviamente noi come ANGI supportiamo in tutto e per tutto e oggi appunto la mia presenza a cui lo testimonia ci auguriamo possa dare veramente un'evidenza e un'illustrazione importante attraverso le voci dei nostri autorevoli relatori.